Browning Bar Executive Una serie limitata, non più prodotta, realizzata solamente in calibro .30-06 e .300 Winchester Magnum. Questo modello è stato realizzato in versione Long Track, ovvero con canna da 55 cm. Questo esemplare è in calibro .30-06. I legni, molto pregiati e selezionati, contraddistinguono quest'arma. L'incisione, a dir poco spettacolare, realizzata in maniera magistrale, è stata eseguita all'interno della bottega Giovanelli, dal maestro Dario Cortini. Il calcio è dotato di pieghe intercambiabili che sono in dotazione alla carabina. Lo zigrino, molto ben realizzato, con passo estremamente sottile. Poggia guancia, estremamente comodo. E un calciolo estremamente efficiente, l'Inflex Technology. La coccia è stata lasciata appunto pulita, in modo che il cliente potrà farsi incidere le proprie iniziali. Notiamo gli attacchi per la cinghia, che sono molto moderni. Sono dei quick detach, ovviamente in dotazione alla carabina. Mirino e tacca di mira portano dei riferimenti in fibra ottica. La tacca di mira porta un riferimento a ferro di cavallo in fibra ottica verde. Allentando questo grano di fermo, è possibile correggere lo spostamento della stessa. Il mirino, invece, è in fibra ottica rossa. E può essere regolato sia in altezza, azionando questa vite di fermo qui, e sia in brandeggio, azionando il grano di fermo che si trova davanti all'organo di mira. La carabina, ovviamente, ha la predisposizione per una slitta, così da poter permettere il montaggio di un'ottica da abbattuta o di un punto rosso.